tempo ma quale tempo vuoi che un click vado il set di blood dragon di castle sta caricando euro però gli ridono di ritorno quanti mangiare di ritorno di ritorno a dire una cosa mai cosa ora entriamo in live siamo in live 1 bel nome 2 grazie per la subscribe grazie mille grazie grazie anche grazie 100 grazie 200 insomma ma si ho detto di no comunque è quello di parlare cosa va bene ora ho chiuso una serranda era proprio quello il suono gatto avviso che sto caricando un video quindi a mezza partita muoio va bene buonasera stiamo buttando via espert no a me ci serve alla fibra è entrato vai partiamo subito veloci dai io sono pronto vai velocemente c'è il set bushido di montagne che costa 8 euro lo voglio il set bushido di montagne grazie che mi dice che i telefoni sono in live una volta giusto curto veramente sì ma solo voi questo solo voi solo voi siamo tutti tranne te siamo eh ho capito che siamo voi però sveglia e giorno e come dire solo io comunque gatto perché tutti noi sì e tu no quindi solo tu in realtà è solo io sono bello allora mi stai dicendo marco tu ce l'hai giusto fai schifo no dai facciamo un po di casino io faccio kafka kafka chi è kafkiano amico e oggi ho fatto le grandi stragi ciao a tutta la ciao ciao a tutti io faccio tatanka ore oggi ho fatto un'ora ma tatanka ma tatanka fa schifo toglilo ma che schifo ma non è che fa schifo eh aiuti non è che è noioso adesso adesso li ha messo il cazzo addosso lo stanno usando tutti ma è più fastidio che altro perché mai non vinciamo mai quando c'ho tatanka poi le 14 per me è sera ma no è pomeriggio insomma pomeriggio non lo usi mai 14 e sera dove vivi scusa ma hai problemi c'hai hai un orologio da 30 ore che schifo è la mappa ma lo stagio merda allora la mappa nuova ed è difficilissimo ma questo è aperto com'è novantuno chimi grazie pieno di gente visto che esprit dorme è appena arrivata adesso adesso è anche meglio così se lo leggi direttamente tu senza che ti dica ho distrutto tutti i droni perché parlate di notte non è vero ce n'è uno qui che è sceso ah meno di quattro infatti ne manca uno mi sento individuato vabbè ti chiudo for già marco mancano cinque secondi che cacchio di mappa è ma no merda è difficile da difendere però è buono gatto che pericolo che rischio è più difficile da difendere non ci sono parti chiuse è tot messi tot tot messi un tot che hanno si ha sparato da dove fammi chiudere qui chi è acqua qua qua è arrivata una cosa addosso attenti attenti non c'ho ancora il mirino su questo non lo mi so eh neanch'io c'ho il mirino un po' vai la 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 finestra lì eh si a sinistra lì eh si a sinistra lì vabbè arrivati vabbè mi controlli bene veda se c'è la piunga da lì no dottore cazzo aiuto 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 ah porca puttana puttana questo è un coglione ci stiamo di mezz'ora te l'ho detto io ma non me l'hai detto poi dunque è arrivata non c'è chi non libra ah ma penso ho 5 di vita ehm non c'è il dottore e allora c'è il dottore tam i vanoli grazie grazie mille guarda male grazie mille che stanno facendo eh moro da sopra sopra che ce vuoi fare moro c'è un robotino è entrato un robotino ho distrutto uno l'altro no fa c'è la cortesia adesso mi spara non lo sai adesso c'ho il doppio della vita di prima aiuto dietro va bene bravissimo il doppio della vita di prima stanno sparando uno dietro e sprit fai forza eh ecco poi non mi aspettavo neanche visto sta entrando da sopra mi sa dietro poi devi controllare la camera devi controllarla non puoi bloccarla sto controllando ma non c'è nessuno eh c'era uno sotto di te e c'era uno sotto sotto c'era uno ho identificato io prima qua uuuuuh ah io ho fatto pure due hitmarker a questa ah che stomba ci parla proprio di capitato proprio ecco l'hai usata tutta canca? eh si quello che ha fatto più kill si ma non con la torretta no non tu con la torretta dico l'hai fatta? eh non l'ho fatto in tempo c'è lo stagio c'è lo stagio c'è lo stagio c'è lo stagio quindi niente buono le hai fatte buone a giocare ma parla a lui parla parlo io si sono morto per colpa tua ma non è vero ma porca troia c'è lo stagio scusa scusa chi eri prima? cosa vuol dire? ero il muto lui è morto perchè un coglione perchè è rimasto sopra il fuoco sei ore anche se glielo ho detto ero in mezzo non mi faceva scappare capito gatto non è possibile non è possibile che non riuscivi a passare c'era un c'era un camion dentro di me non è possibile che non riuscivi a passare pure c'era un camion di fuoco dietro di te però anche un paio di mesi è la ragione non di sopra sono ah dove cazzo dove andavi? qui c'è il bagno è veramente tosta se vogliamo andare veramente tosta sta motta comunque tutto aperto messi ha rinforzo il buono ho sentito Marco anch'io però l'ho capito sono sopra ma non riesco ah c'è si sono qua ah ecco il jammer eh sono rimasto bloccato lo schifo della loro mamma non ro 10 secondi all'interimento l'hanno distrutto ma capitano non è big boss mai ma porca puttana mai solo perchè ha la benda è anche capitano uncino allora appunto per quello si chiama capitano eh qua il jammer di merda capitano uncino che bella un'ambientazione però quindi lo segui con la mano e con la mano e esatto con gli amanuensi ah mi dimmi già stato indirizzato buongiorno buongiorno eh non c'è un ragazzo che ho le telecamere qui eh una grazie 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 da dove? eh dal secondo piano da dentro verso fuori c'è una porchetta qui dove c'è la cama di merda fa porca si vabbè ma dove sei Tricamer? dove sei? hanno tirato una c4 vince 2 euro e 43 moro e spiriti stava sopra il fuoco perchè voleva ah riflutarsi le fiasche e tutto qui eh ovvio grazie mille gli ho sparato in testa e non è morto comunque si ha messo a verbale eh lo saprò entrare in testa ma non gli hai sparato in testa si si che hai fatto il buffetto di sangue eh ma non vuol dire che gli hai sparato in testa eh c'era solo la testa amore non è che c'era volto no era la spalla stava mandato ma mi hanno ancora individuato porca puttana ma dove poi? non sa fare lo stele ma è stato ovunque è lui tanto lì hai lì oh porca troia oh porca che giro ma c'era uno sotto dite sei passato avanti ma non so non l'ho visto no guardate ah era appena arrivato porca troia eh non ho visto l'ultimo ah che era lì eh ah dai ho preso il buffo ecco vedete lì eh no era un altro seguendo un altro che era davanti l'ho preso nel c4 ma non è morto chiaramente già stavamo non la conosco più mi trovo già da caso sì no questa mappa non la conosciamo anche perca puttana paura marco tu che si conoscesse tanta ore eh ma l'ho fatta due volte anche ancora stamattina è uscita ieri sta mappa l'altro ieri ah marco che dolore che dolore che dolore sono caduto correndo come è possibile ho inciampato tutto sei sono caduto solo com'è no guarda cosa si vede però dallo cammino ok ti ha colpito la cabeza ma io ho fatto hitmarker a due persone ma ah grazie andretorn grazie andretorn grazie andretorn 01100 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 faccio il mutuo e faccio quel cavolo che mi va adesso mi fiammi niente eh ma tanto è inutile anche i jammer qui se ci dà la stanza di prima è un casino eh ma è tutto aperto i jammer veramente o li metti in una maniera incredibile o hai metto accanto i muri per fargli distruggere i muri però il problema è che comunque ci sono spazi aperti cioè è tutto spalancato di porca troia adesso vediamo dove ci azicchiano io le trappole le metto alla fine se no i droni vedono dove le metto ok sembra un pelo meglio questa sì qualcuno è rook qualcuno è... non abbiamo né dock né rook si spezza tieni eccolo eccolo ah ma lì va te infermiera gli controllati vedete se c'è la pilungo del mio no dottore bene grazie mille grazie mille spera che sei bronzino ma credo che bello però il... non muore non mi è morto c'è robottino no è stato uno intanto ma porca puttaro uno è entrato uno eh ho provato a romperlo ma non ce l'ho fatto uno eh 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 io sono fuori qua arrivo tu sei fuori è stato individuato dove c'è esploso qua il muro è in sicurezza ah una gemma perfetta allora se io mi azicco da dove non so dove guardare perché non conosco la mappa che vengano pure è già una telecamera fuori l'ha rotta loro che se vuoi mettermi qua posiziono il giampetto trappola ah non so se sto metta attenzione ok c'è uno qui dietro hanno rotto qui merda che puzza che pare che hanno rotto lì eravamo pronti ovunque tranne che lì guardi te io so come hanno individuato c'è il robotino fuori lì l'ho rotta marco coprimi eh non vedo nulla gatto vedo il muro attivo il sensore oh ce n'è uno qui dietro ma dove hanno rotto scusa è allo stadio è allo stadio e come l'hanno rotta non ci sono entrate eh due finestre ci sono è arrivato all'acqua ecco la finestra lì merda non l'ho preso ma il blackbird con il cappello da pirata cazzo dove sono gatto è dalla finestra infatti mi ha ucciso la cecchina hanno rotto qua stai senti che c'è un buco nel muro dove sono morto io che mi hanno ucciso dal video eh io qua sono inutile aspetta sfondo un attimo qua stanno rompendo no stanno rompendo ma lontano fuori rispetto a me ma che cazzo ah puttana faccio tra messi i mobi il fuoco ma fa il culo eh vabbè c'è blackbird non lo ucciderò mai ben bolem non ho ucciso nessuno infatti e quanti senza mirelli c'è eccone uno ragazzi eccolo ne ho ucciso uno ne ho ucciso uno mi rompe mi rompe mi rompe e mi ha rotto eh di la non ho messo trappole io l'ho messo tutte di qui no io sono qua mi sa che sarà in realtà dove sono io l'ho ucciso da finestra intanto marco stai attento che mi sa che ce l'hai dietro il cu porca troia c'è quella cosa non è niente che spavento perché a me sembrava qualcosa eh merda dove li ha azzaro? fai z e da me e da me e da me c'è uno sono ancora in tre eh porca non l'avevo visto neanche io mai nemmeno porca troia eh arrivan da tutte le parti esper ma che dal culo? si si da tutte le parti e dentro il tuo culo guarda dove ti fai spodere roba mi fa fastidio eh eh lì lì dov'è? eh sinistra eh qua sinistra eh qua sinistra eh sì dobbiamo studiarcela bene st'amatta si giro stagio vai vai anche studiandotela bene secondo me è troppo aperta devi fare un tatticone eh ma così proprio non ho visto inclinati non si inclina mai Non lo fare, non lo fare! Non c'è che entrare, l'ho facendo. Aspetta, aspetta. Ma dove? Da un'altra parte, credo. Da un'altra parte, credo. Ah, da lì. E' affancura un po'. Da tutte le parti devo guardare, porca vacca. Sì, signor. Abbiamo cambiato. Va bene. Proviamo per bene, dai. Se la si può fare. Eh, il problema è che questa mappa non la conosciamo per niente. Sì, forche, tra voglia. Ancora non so di essere io. Dovamo anche barricare un po' meglio all'interno, perché c'era un muro dove c'era un muro e quando era barricato non va bene. E io non ho potuto... le trappole le ho messe alla fine, perché se no mi sgamano. Non ha messo anche il muro, tra l'altro lì, quello per barricare non arriva fino in cima. Sì, sì, si può mettere la muro. Sì, ma non arriva fino in alto. Sì, sì, ho fatto tutto il muro fa. Eh no, delle volte no. Beh, comunque però, se hai coperto da quattro di muro, più sotto il muro non ti pende, tecnicamente. Eh no, a me mi hanno ucciso dall'alto. Sì, ma eri molto più lontano dal muro. Cioè, se tu li metti sotto il muro, e il muro è barricato per tre quarti, comunque non ti prendono. Sì, siamo su Game Division adesso, ragazzi. Su Game Division. Su Game Division. Game Division. A divisione, però. E suddividiamo... E ho ucciso uno spando a caso nel futuro. Tutte tutte su di Teinov. Ma no, ma... Ma guarda, posso anche fare a meno. Anche perché devo studiare, quindi non ho tutto questo tempo. Che schifo, questo vuol dire del 2016. E poi devo studiare pure qui. Guarda un po'. Se volete vi lascio dover leggere le cose. No, ma almeno ce li te lascio. Io ti sto obbligando a comprare il gioco. Eh? 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 Poi la chat io la leggo benissimo da solo, ho capito? C'ho gli occhi. E poi comunque è una stupidaggine, perché stai giocando a Guitar Hero sette ore al giorno, quindi potete vedere così. Ma non è vero. Sì, sì. Sempre su Guitar Hero. Ieri fino alle due... Platinato... Non mi dite le cose. Sì, però prima pomeriggio ho comunque anche studiato, ho fatto cose. Anche, vedi? Anche studiato. Eh, mezzo di studio... Oltre alle altre mille cose che ho fatto, ho anche studiato, vedi? Vedi? Mentre giocava Guitar Hero. No. Eh, non so. Quello è il gatto, non quello lì. Quello lì è il gatto far... Oh, ecco. Difendete le bombe. Ma che palle? Ma che palle? Difendete le trombe? No, aspetta. Ah no, invece sì. Qui la serve. Inno murata, eh. Inno murata. Inno murata. Anche qua con la grossa, gatto. Aspetta. Tenete d'occhio per i droni, mi raccomando. Ieri sta facendo lavori in questo periodo. Qua, quella là. Per quello non c'è. Che paese parichiamo? Questa? Ok, Marco. Che pareti varie? Queste? Ancora 10 secondi. Non so che vai da variecare. Sono stato individuato. Permesso, permesso, Marco. Non c'erano bomba qui. Non c'erano bomba qui. Vedete qua due pareti. Siamo due pareti qua. Dov'è? Aspetta proprio la bomba. Ah, arrivo io, arrivo. Sì, sì, sì. Perché adesso è più perfetto che c'è l'uomo. E almeno devono uscire obbligatoriamente dalla porta. Ma qui non serve. C'è la bomba di là e... C'è anche di qua. Eh, ma tanto non c'è molto da murare effettivamente. Sto notando. Eh, a questo punto mi chiamo nelle parti dove si può. Io sto chiudendo qui perché... Ah, qua c'è la murale. Qua, ragazzi, c'è la murale. Ma io ho murato due c'è la murale. Ma io ho murato due c'è la murale. Eh, qua dove c'è la murale. No, non riesco. Eh, porca vacca. Qua. Vabbè. Cosa hanno rotto, Marco? Dov'è? Eh, non ho sentito roma. Ho rotto il tuo chamber perché mi sono troppo vicino alla parete. Che fai. Ma porca puttana. Eh, ma io lo metto vicino alla parete. Eh, ma troppo. Mettendolo male. No, dai, io potevo così. Devo per forza. Eh, non ne ho più muro. La mia tracola non lo so. A me non mi ha detto niente. Ok, ce n'è uno qui da me. Ce n'è uno qui da me. Ma inizio sotto chi? C'è un drone, c'è un drone. Ma fate entrare. Eh, il gem è rotto giustamente. Si già. Ma con che cosa vuoi sparare? Mamma mia, stavo tirando la C4, vedi te. Eh, mamma mia. No, no, beh. Però porca puttana. È per terra, è per terra, è per terra. Guarda. Però porca puttana. Ma davvero l'ho ucciso in due secondi. Ah, sono due. Fuori dalla sinistra, Liezzar. Sono tre, hai da quattro parte da. Ma doc, come l'hai mancato, eh, spirit. No, poi l'ho ucciso quello, eh. L'ho ucciso, mi sa. Uccidino, Liezzar. Niente. L'ho ucciso? No, l'ho ucciso, porca puttana. Ma l'ho preggio? L'ho venuto sangue ovunque. No, no, no. C'hanno asfaltati in pratica. No, hai venuto fuori il sangue da me. Sto giocando? No. Fidati, ho appena visto la live. Gli hai fatto la sagora. Guarda, ti stanno anche vedendo in giro per la mia. Non è possibile. Voi state tranquilli però, che vi spoco la faccia. Infatti, comunque facevano a sapere che eravamo andando la prima. Cioè, a caso vanno andando la mappa e gli trovano solo. No, erano sdraiati per terra. I primi che ci hanno ucciso erano sdraiati per terra, hanno visto da sotto le fessure delle porte. Che palle sta roba. No, il problema era anche che erano tre là, gatto. Non so di vista. Uno con lo scudo, uno per terra e uno di lato. Si stavate un po' di merda con questa mappa. Era un po' a caso. No, c'è andata di sfiga che fossimo tutti nello stesso posto mentre arrivavano. Eh, lo metti sempre meglio. Infatti, non ho mai fatto questa parte di mappa qua con le stanze. Infatti, non so poi neanche le varie mura. Tu sono stronzo. Neanche tu lo sapevi dove erano in mura, comunque. Cuglione di merda. QQ E QQ Moro devi formattare? Si. Allora, Moro, ti sbrighi. Secondo me è una questione di fast web, comunque. Non è del PC. No, perché no. Quando io ho formattato vedi che adesso carico molto più velocemente. Non ho cerrato più il cuglione. E io ho formato da tre anni, va subito. Il secondo. La prima raffica che hai sparato non hai colpito nessuno. Eh no, perché non è ancora uscito. Ho sparato a casa apposta. No, no, no. Era davanti alla porta in piedi che ha ucciso... Ma ho iniziato a sparare per non riuscire, no. Non so neanche un altro perché... Perché sapevo che era da per forza. Ho sparato a caso la prima volta, ovvio. Dovete usare il drone, lo so. Io ho visto del mezzogiorno di fuoco. Dovono di sopra, direi. Ho messo un di sotto, a far vedere. Guarda di sotto, guarda. Ma non ci potete... Nel garage. Non c'è nessuno di sotto, guarda. Non venire. Ma che palla. Non c'è nessuno qua. No, sotto veramente non c'è nessuno. Ma dove cazzo sono? Il mezzanino? Sopra di sopra. Nell'altro edificio. Come in un altro edificio? Una madonna. Nell'altro. Con due edifici attaccati, se vedi. Eh, merda. Abbiamo solo 15 secondi qua. Sopra sopra nessuno. Sopra sopra. Sopra sopra. Sono trovati. Ok. Almeno una bomba. Identifica una bomba. Quattro. Bravo. Ho trovato una bomba. Eh, buttana, come mi hanno rotto male. Come mi hanno rotto Mario. Non so, le telecamere. Una è lì, la romata. Dove sono le telecamere? Una è rotta. L'altra è qui, la rompo. Eh, devi provare ad andare da qua, no? Ah, da qua, ma stai sento a puntani. Non hai qui. 30 metri. 24. Punto. Andai a mettere anche tutto da casa dietro. Vabbè, ho capito. Ci corri sul tetto, eh, Spirit. Che palle. Che problemi ti devi fare. Eh, eh. Sul tetto suba di mezzo. Anzi, entriamo dall'alto. Aiuto un po' intanto. Ah, hanno sfondato? Chi è che ha sfondato? Io ho sfondato. Ah, ma dove eravamo noi. Dove eravamo noi. Io c'ho il Fuzze, eh. Quindi aspettate che gli metto i fringuelli. Ah, me l'ho individuato. Gatto, aspetta un po'. Me l'ho individuato, Lorenzo. Stai lì. Ti ho rotto le finestre. Dov'è? Eh, sono sotto qua. Ehm. 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 Bravo, Moro. Bravissimo. Buonissimo, buonissimo. E tutto è, Spirit, guardavo. È Spirit, copio. Eh, ma c'è uno qua sotto di notte. Ehm. È l'ostaggio? È anche passato ora. No, non sono le bombe. Allora... Sto andando col drone io, eh. Aspetta che... Eh, mi hanno rotto. Perfetto. C'è uno sotto, eh. Ehm. Ehm. Io ho tutte le finestre rotte. Sono morto. Cos'è successo? La tua squadra ha abbandonato il disinnescatore. Ah, c'era uno nel tunnel. Fanculo. Dove? Dove, Moro? Eh, come... Nel tunnel. Che tunnel? Eh, c'è un tunnel, c'è. Ehm. Marco, mi sa. Dietro a destra... C'è un tunnel. Eh, è dietro la parete comunque, quindi niente. Attento. Uno è sotto, non so dove cazzo è finito. Ah, purtroppo... Merda! Eh, troppo tardi. Troppo tardi, ho sparato, troppo tardi. Allora, Mark, se ti arrampichi... E' uno sulle scale, è uno sulle scale. Guarda la finestra a sinistra. Eh, la cosa che ho visto prima era... E' lì davanti uno. Eh, guarda. La finestra è la lunga. La finestra è la lunga, quella. La finestra è la lunga, quella. A me m'ha ucciso da lì. Eh... E' uno è là, eh. Però no, non lo vedi da sotto, perché... E' alta la finestra. Eh, dove mi metto? Perché è difficile qua adesso capire... Ma è in te, basta, Mark. Non puoi stare fuori. Calire di qui. 8-2. Occhi di sopra. Eh... Merda. Stai ricordando in giro così? Eh... Non lo trovavo più, porca troia. Eh... Eh, vada, dove? Ah, sono lì, sinistra, sinistra! Ah... Eh, lo so, lo so. C'era anche un colpo lì. Buona. Eh, bravo, Mark. Stai attento. C'era uno, sì, a destra, qui che ero con la finestra, sembrava. Eh, l'ho visto. Sì, quello che ha ucciso me è quello lì. E' messa che è andato via, eh. Non lo so, sento correre. Eh, perché voi da spettatori sentite più di me, eh. Quindi ditemi se sentite qualcosa che... Eh, io li sento via la finestra. Eh, ma che due finestre, una sinistra, devi... Io lo sentivo sotto di te, comunque. E' un casino qua adesso. Eh, non so come muovermi. Parricala tu. Che casino. Ma la bomba mi piazza, glielo. Sono stato individuato. Dove? Ah, dietro. Era dietro, Mark. Ma da dove, poi? Eh, da finestra. Eh, vedi, erano due. Eh, ah, dietro. Fermo il mobile lì era. Eh, ero uno all'altro. Ah, ma quando facevi i video di Mark non potete fare niente. No, no, lì, eh. Purtroppo era una situazione... E' troppo il cecchino non potete fare niente. Secondo me. Sia proprio un massimo, secondo me il setup è qua. Sì, ci metto un casino di tempo a mirare. Eh, io. Ci ho messo troppo a mirare. Eh, vabbè, ragazzi. Ma no, che l'ha nerfato. Non ci mette troppo a mirare. L'ha nerfato qualcuno ci mette... Più a mirare. Forse il cecchino. No. Non hai selezionato uno. Ah, merda. Però mi sono lamentato. Solo ho detto che avevo avuto rifaccio. Ma dai! Ma avevo cliccato. Fanculo. Coglione. Ho cliccato pulso. Proteggete le bombe. Distendete le trombe, dai. Mentre è stata... Non sono buona a mirare. Realmente l'hai, scusate. Lo vedete da me. Sì. Ma che c'è buona a mirare? Vaffanculo. Eh, non sono buona a mirare. Non è che mi sono lamentato del gioco. Ho il tuo sberato mirare. Eh, ho rotto due droni. Sì. Eh, il fatto è che il glance con il cecchino può sfondare bene le pareti e tutto. Eh, però... Però contro le persone... Mark, non vedi te. Eh. Eh, aspetta. Devo mettere le trappole dove non ce l'aspetta. Ho Black Bear. Vabbè. Se qualcuno viene a barricare qua i muri... Dove? Ah, io c'erano solo una. L'ho messa. Mancano 5 secondi. Metto anche di jammer così. Dovete impedire che non si trinchi le vostre bombe. No. No. Non l'hanno trovato comunque. Eh, no. Poi ho messo due jammer. Eh, doveva entrare. Da qualche parte doveva entrare. Io sono la recluta, sto fuori. Che tanto vaffanculo. Perché sei la recluta? Eh, perché... C'è stato un errore. Non è buono. Avete sparato voi? Sì o no? Pronto? Eh, io non ho messo l'altro. Allora, qui c'è gente che spara. Vite, però dobbiamo bloccare l'ho inventata qua. È bloccata la blocata lì, stavo fuori. Eh, io non chiuderei invece lì, esteri te. Mi hanno individuato. Eh, non lo so. Non... Non... Non sei gatto. Ok, sono qui da me. Non so dove mettermi. Così mi metto. Sto sparando con te, Moro? No, no, sto sparando una parete. Non lo so. Eh, magari è la mia trappola. Perché col kafkan non mi dice se mi rompo le trappole. Devo guardarlo io, se no non... Mi pare lo dica. E poi andando un po' a caso adesso, mica non ci si chiamano. Sì, sono di sopra. Aspetta, arriva uno da te, Mark. Gatto da te. Orca troppo. Eh, vabbè, allora... Che uno che è passato qui? Sono alla tua destra che hai detto. Merda. Io sono rimasto fermo. Ecco lì. No, per un mattino. Perché sei rimasto fermo qui? Eh beh, arriva da Mark e io ero... Eh, Mark era di fianco a te. Non è che... Ma il cazzo? Non è vero. Ma sì. Ma ero da solo, cosa dici? Ma puntava Mark, puntava... Cioè, Mark puntava lì verso... Di quella direzione, ho detto... Cioè, ero sbagliato. Ok, ne ho uccisi due. No, l'ho ucciso. È un tiro da te. No, mi ha ucciso appena l'ho visto. Ma com'è possibile? Dov'è, Mark? Eh, nella stanza dove ero io, Esprit. Eh, ha rotto il muro. Ah, lo vedo. Ho fatto un buco nel muro. Porca puttana! Che rincuro! Mamma, mi è stato... Mi spara più in basso! È stato veramente bravissimo! È stato veramente bravissimo! Ma... Sì! Va bene. Va bene. Col pompa, eh! No, con... No, con il cecchino. No, con il cecchino. No, con il cecchino. No, con il cecchino. Ma chi era? No, vabbè. Aveva il mirino... Lungo, però no. Capito che io mi... Mi è perdito di rincuro a me. Però non è morto lo stesso, dai. Jezar, mi sa che t'arrivo andato a dietro. Poi io te l'ho beccato. Eh, mi sono dietro. No, mi sa che ti disinnescano. Palle. Devo cambiare l'arma qua. Va bene. Attento! Non li puoi sparare, eh? Al disinnescatore? No. No. Jezar, sono qua a sinistra! Non li hai sentito? No! Eh, vedi che ci sentiamo sempre di più noi. Come mai non puoi sparare al disinnescatore? Devi romperlo a mano. Di darle botte col calcio del fucile. Ragazzi, ferma! Già sto... Ho capito! Ma se io gli sparo, l'ho rotto! No, no. Le botte sono più efficaci. Eh, non sono. Eh, non sono. Sono fortissime, no? Anti-rutto. Che bella barba che aveva. Tutto un cazzo. No, Sully, su Twitch Overwatch non è il massimo. Né per noi che giochiamo, perché non riusciamo a leggervi mai nella vita. Né perché non piace a così tante persone. Quindi è dubito. La vediamo in realtà comunque. Invece. Invece. Che piace da giocare, ma da guardare notiamo che non è che fa impazzire, eh? Mi pare. Che è che l'ha notato? Che è che l'ha notato? Fa di meno su Twitch. Ma non l'abbè mai fatto? Cioè, Overwatch su Twitch? Eh, guardavo da gatto. Beh, ma la gatta era assoluta. Anche su YouTube. E quindi? E quindi diverso. Va bene. Eh, su YouTube... Non va di certo come... Non va di certo come... Beh, non va bene more Overwatch. A livello di visual non va bene Overwatch. Eh, è così. Non è che... Cazzo non è un pregio, c'è. Vabbè, da seguire Overwatch se tu... Eh, se non piace a chi... A chi stiamo streamando, foro. Da seguire Overwatch è difficile perché non conosce il gioco, ad esempio. Eh no, infatti. Per quello dicevo. Piace a chi ci gioca già, ma... Cosa Rainbow Six è meglio da seguire? Rainbow Six è anche uno che non ci gioca, lo guarda volentieri. Ma io gli faccio coaching. Cosa fai coaching eh? Coglione. Tu c4 di nerd. Cosa c'entra? Tu... Mi ricordo tu c4, eh. Ho visto anche di prima, ho visto. Che ha ucciso un bei Mark, che ha ucciso anche te stesso. Eh, sì, va bene. Però con lo zucca. Non c'è il foco amico su Overwatch comunque. Ah, dai. Non ci sono neanche le c4. Stiamo parlando di Rainbow Six e non parli di Overwatch. No, stavamo parlando di Overwatch. No, stiamo parlando di Overwatch. No, stiamo parlando di Overwatch. Te lo sicuro, stiamo parlando di Overwatch. Ma non sta tranquillo, eh. No, no. Mi è partito il cervello e non sta tranquillo. Non sta tranquillo. Bene, dai. È partita bene la partita. C'è simpatico il gatto. Dai. È un robottino, Mauro, lì. Ma non me ne sbatte niente, ho già trovato l'obiettivo. C'è un morottino lì. Non lo vedo. È fortuna che ha rotto le bottiglie, se no mica mi accorgevo. Ah, l'ha andato qui? Che subito. Aspetta. Entro, entro. Qui mancava una parete e non ce l'hanno uscita. Qua la metto io, porca puttana. Anche di là ne manca una. Che parete c'è... Di là c'è un'altra, Mark. Dov'è? Ho il filo spigato io qua. E sono morto. Fammi te la chiesa. Come sei morto? Sì. Che bello, dai. Hanno tutti delle canne lunghissime. Cos'hai? La mette qua. Stanno bombolando. Ah, Mark. Che culo, Mark. È dietro lì la porta. Dietro qui la finestra. Non posso metterla adesso, però vi motivi. No. Falla entrare, che tanto c'è la trappola. No, non c'è la trappola, la rotta. Eh sì, hai risultato a me, ma io in realtà l'avevo scritto a Moro, non a loro. Che male. Da dove? Da qua la finestra, che dolore. È addirittura davanti a te, Lorenzo. Eh, lo so. Non siamo buoni oggi. Oh, ce n'è uno, ce n'è uno qui, ce n'è uno qui. Oh, hai visto. Ah, ci sono una trappola. Beh, oggi. Beh, sì. Mark, io ne ho fatto una da solo, sono andato benino. Oggi ho fatto otto kill. E io non ho. Eh, con te sono andato un pelo peggio. Ah, non è niente. Il robottino, eh. Ah, merda, sopra! Ma da quando è che hai rotto sopra? Dove ho taggato. Non ho stato individuato. E infatti sono buoni per te, Marco. Il robottino c'è. Io sopra non mi sono mai accorto quando ho rotto. Gli hanno rotto la roba in faccia a Esprit, praticamente. Non la faremo mai. Da che? Sopra. No, non è vero. Io ne ero là. È sento, eh. Eh, da quando ho iniziato a svappare non sono più buono a giocare, comunque. Da quando hai iniziato a svappare tu hai rotto i coglioni un po' a tutto. Veramente è morto. No, Marco, Marco, basti! Basti, Marco, basti! L'ho colpito, ecco. È morto. Ok, bravo. Spacchiamo la faccia a moro un giorno di questo. È in difficoltà! È niente! Vai via, Marco! Non scappa di più! Ma non con quella! Ecco, bravo! Magari non con quella, esatto. È un casino! Marco, proteggimi! Come? È la miss! Dai! Non lo provo! Ricarico! Oh, provola! Ma cosa fai? Che corpo! Che puzza! C'è il gas! Mi scarico! Dietro, Marco, mi sai? Non lo so. Eh, ho sentito il rumore che forse era dietro. Non voglio ricaricare. Il punto è carico, il punto è carico, il punto è carico. Ah, me l'ho ucciso! Non so da dove! Eh, ti hanno visto il robottino. Dove, dove? Ma dove cazzo mi ha ucciso sto qua? Scusa! Ah, lo sapevo che era di là! Porca puttana! Mi giro un secondo e c'è il tipo di latte! Ma porca droga! Ah, ma appena guarda! Eh, aspetta! Non lo sai giocare? Parla quello che è morto del primo, comunque! Tantissimo! Ma come sei morto di merda! Eri nel posto più da stronzi del mondo! No, ma perché... Perché Rainbow Six comunque c'è la tensione! Non volevo essere lì! Se mi può giustificare! Devi piazzare le trappole! Eh, non so! Vai! Eri nel corridoio più scoperto! Ci sono... E infatti ho chiuso la porta che ormai era tardi per rientrare e ha detto... Eeeh! Io ho visto te che chiudi la porta e ti sei girato e hai detto... Merda! Ho sbagliato! Merda! Dove cazzo sono? Perché sono qui? E comunque non sono ultimo, tra l'altro! Lo faccio notare! Ho ucciso uno con la trappola, però! E invece di Rainbow Six siete più partecipi, overwatch giustamente, non riuscite! Ci sta! Ci sta! Eh, secondo... Da giocare... Non ricaricare l'arma, purtroppo quello lì è un tic! Eh, d'accordo! Io spavo un colpo e ricaricare! Che in realtà neanche in COD avrebbe fatto! Fate conto che io avevo gioco di prestigio in COD, quindi lo facevo ogni 3 secondi, Riccardo! Eh, in realtà non ti avrebbe fatto neanche in COD, perché cagavano sempre! No, io sempre, sempre in COD, avevo sempre gioco di prestigio, se no non riuscivo a giocare! Eh, con gioco di prestigio lo potevi fare su COD! Sì! Io ho visto... Dov'è? L'ho scossato! Sotto, sotto! Sotto, sotto! Ah, mi hanno rotto! Mi hanno spaccato! Erano... Appena scendi le scale, Esprit, dalla botolina! Ah, ecco lì! Vai, Esprit, vai! Cerca, cerca! Dov'è? Ah, guarda! Sono lì! Eh, non lo so! Dove sono io! Salta! Dove cazzo sono? E magari ti ha depistato, Esprit! Eh, non so dove sia palabombare! Eh, ma perché ti avrà depistato? Beh, comunque non so! Eh? Mi ha detto? Ti ha depistato! Eh, cosa vuol dire? Che ti ha fatto andare in... Come cosa vuol dire? Ti ha fatto andare in un'altra stanza... E non era libero la botta! Ah, ok, in quel senso! Eh, non... Porca vacca, però! Aspetta, ci penso io! Ma che botta! Quindi dove sono loro? E adesso lo so, ho mandato il drone mio! Marco, sei un gatto secretino! Aspetta, che io lo so dalla scena! E vado anche con il robottino! Fa un culo! Cazzo, qui è aperto, però! Gli ho distrutto la... Una trappola Kapkan! Vediamo se riusciamo ad andare... Quindi sopra non sono, sicuri? Eh, sopra sopra no! Ah, guarda! Qua c'è una bomba! Quindi state attenti più alle porte! Eh, dove entrate! Sono stato individuato! Giazzar, sono io qua, tranquillo! Mi hanno rotto! Chi è stato? Mi hanno rotto? Giazzar, sei stato tu? Mi sa di sì! Eh, perché mi son cagato! Eh, ma... Ti sono anche detto! Eh, mi son cagato! Gatto, dove? Aspetta, ma... Dove sono io? Guardo io! Sono là? Eh, non posso più controllare adesso! Ah, sono qua! Ok, c'è uno! Ho trovato il biorisico! Qua c'è una bomba! Ma che dolore! Ma non me lo tagga! Perché? È fuori? Si, è uscito fuori e mi ha ucciso! Ma che falle! Adesso mi tagga il biorisico! Perché congelato! Ok! Un po' di gelato! Non è più un rischio! Vabbè! Vi taggo il nemico! Vi taggo! Trovato uno! Ah, ok! Aspetta, ho trovato l'obiettivo! Eh, quello di Morware! Eh, ma perché a me non me lo taggava? Perfè schifo, ovviamente! Ah! Ah, sei giù ora! Porca che spavento! Guarda, aspetta che qui c'è la bombola! Ho sceso uno! Eh, uno era di sopra! Non so per quel motivo! No! Gli ho sparato! Ma dai! Ah! Gli ho tolto vita! Almeno quello! È Frost che ha pochissima vita, proprio! Eh, lì davanti te, Marco! Cosa sembra di te? Si! Proprio in quella finestra lì! Ah, nella finestra! La finestra! Ah, l'ho ucciso l'Ezer! L'ho ucciso l'Ezer! Mi ha dato l'assist, almeno! Penso sia quello! Sto comunque attento! No! Era l'altro a cui avevo sparato! Frost è ancora viva! Ha poca vita, ma ancora viva! Dov'è Marco? Qua? Era nella finestra esattamente di fronte a dove sono morto! Entri, c'è un muro, lei a destra! E c'è lo shotgun! Occhio! Dai! Gli ho sparato, è per terra! Spero! Tu vorrei scendere! Tento rumori a sinistra! Sì! Ok! Sono qua sotto sicuro! Aspetta! Aspetta! Aspetta gli Ezer che metto per sicurità le bombe qui! Dove stai guardando? Ma non c'è nessuno dentro! Eh, non importa! Che porte! Eh, le ho tutte le porte! Qualcosa l'ho colpito! Sopra! No, dove sono? Ti dico dov'è, ti dico dov'è! Aspetta! È Frost, ha uno spunto di vita! Eh sì, Frost è morta praticamente! Ah, è sopra! È sopra! È sopra! Gira! È morto! È morto! Non era girati a dire, era sopra Marco! Eh, volevo dirti quello! Solo che ho sbagliato il mondo! Che coglione! Gira! Mi giravo di schiena e mi becava in testa magari! Ah, io non l'avevi visto! Da colpito comunque, porca troppa! Eh, beh, bravo! Ho giusto anche Marco! Eh, ma non moriva! Però, che palle! Fammi fare il bottone! Chi è ultimo adesso? Eh? No! Io sono primo! Io il secondo! Gatto? Eh, non so, non so, non so! Io prendo... Ah, Opus! No, scelgine uno gatto! Non so entrare, però! Ok! Cosa fa Jagger? Eh, le bombe! No! Mette le cose contro il muro che disattiva! Ah, quelle sì! Ma tutte! Mi sa di no! Sì sì, tutte le granate! L'unica cosa che... Infatti con la granata in P, se lo vuoi distruggerlo, devi fare dalla parete dietro! Perché se glielo fai sotto i piedi te la rompe! Per idee è su più o meno simile, ma è... ho visto dalla parte dei tecnici, ladri! Io preferisco tre volte di più o meno simile! Sì, sono la pin in banca, però... È simile! Non c'è, non c'è più! Non c'è più! Non c'è più! No, credo di no! Credo che sia solo il più rischio! Dov'è il più rischio, scusate? Ho distrutto il drone! Ah, che lo fa? Ma che cazzo vuol dire sta robina? Un cazzo di uno dei droni! Beh, uno lo dettore conviene, usalo in attacco! E per vera, gli controlli di Bram, vedo se ce l'ha più lungo per me! No, dottore! Bene! Grazie a Mieta, grazie a Mieta! La modalità contro i bot di Rainbow Six è come quella di... Payday, praticamente! Rainbow Six... Cioè, Payday... L'ho disinstallato e ristallato quattro volte perché dico... Mi so sforzato a giocarci ma non riesco! Non si riesco a chiedere qua, in realtà! Si riesco in casa! Gatto, mettila anche in quest'altra porta! Eh, l'ho già messo! Ah no, ne ho un altro! Aspetta, dove? Ah no, c'è uno qui! Mettila in questa qua! Non l'hanno trovato eh! Eh, però ho visto più o meno solo, ho visto malto! Ah, ma c'è un raggio piccolissimo allora! Lo metto qui! Eh, non ho preso la stanza! Eh, ma ce n'è una già di là! Guarda, ce n'è una qui! Eh, lo so, ma non... Tra quelle di là, no! Eh, se ne abbia una qua! Non so quanto ce n'è bisogno qui, ma vabbè! Sì, meglio di qua, comunque! Meglio di qua! Qua cosa serve! E inforci completati! Intanto, qui c'è anche la scala! Merda! Dove sono dietro? L'avevo visti, cazzo! Sotto! Aspetta, non dovrei mettere dietro! Moro dietro! Non so, ho sentito! Ah, puttana, lontana! La minestra! C'è Glad, comunque, lì! Ah, allora, uno è qua! Ok! Ah, mi ha ucciso a caso, tra l'altro, porca trono di là fuori! Vai lì! Gatto, no! Davanti, no! Mai! Mi ha ucciso te! No, per fortuna! Per poco! Ma mi ha shottato! Hai curato, eh! Però sei morto uguale! Ho potuto scappare la granata, porca trono! Vabbè, vabbè! No, sto per colpirti, cazzo, però! Volevo uscire... No, volevo uscire un attimo a sparare! Vai alla cosa, dalla cosa! Sono morto ancora prima di prenderci! Eh, no, porca vacca! Porca tritana, però, hai tolto il mira proprio nel momento in cui... Perché, cazzo, sei mosso all'ultimo, porca vacca! Non sta buono! Non sta... Che puttana! Guardate! Buono! No, ma lì ero, troppo... Cioè, avevo... Cioè, avevo... Non potevo fare molto! Cazzo di vigna! Tenli sotto! Troppi, troppi! Non ti sta calvendo mai! Zigulin! 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 Ah, l'hai inciso? Con la palestra che ha inciso! Ho provato! Ho provato! Ho messo un po' di merda dietro! Ah, che ansia! Cioè, dovevano... dovevano stermarci meglio! Caracca, però! Cos'è? Biorischio? Potremmo usare il più! Usa il più! Non so che ho spaventato io! Anzi, no! Voglio usare il Twitch! Voglio usare il Twitch! Voglio usare il Twitch! Così ho finito! La Twitch, anzi! Salve! Salve che arriva adesso, amici! Ehm... No, ancora! Sì, io ho la mira un off sempre! Quando si può mettere sempre o no! No, io no! Se tieni premuto! Sì! Mi riguarda! No, io no! Non posso essere ogni cosa! È incredibile il dubbio adesso! No, dipende! Sì, io no! No! È in qualche gioco perché non si può modificare! Quindi cerco! È solo quella che tenete premuto! Eh! Sono qui, secondo piano! Ok! Ah! L'ho trovato! Mi pare che non so mai dove sono le scale! Infatti sono finito nel posto più sbagliato! Ah! No dai, da qua si scende! Mi ha fatto da male! Hold on! Ah! Calma! Sei arrivato! È gravato! Corri, corri! Tanto gli sto facendo un dolore incredibile a questo qui! Ancora 10 secondi! Ma scomiti! Guarda quanto male gli sto facendo! Ah! Aspetta, devo riprenderlo! Aspetta, devo riprenderlo! Aspetta, devo riprenderlo! Aspetta, devo riprenderlo! Hai riso perché mi hai visto? Sì! Eh, vado di qua, dai! Di già! Ma no, è moro! Però io ero! Amici, gli sto facendo un danno che voi non potete capire! Cosa succede, Marco? Quanto fai? Con Twitch! No, mi ha distrutto! Posso tirare l'altro drone però! Aspetta, glielo tiro! Dovete la camera! Dovete la camera! Meno individuato! Dov'è? Dov'è? Dove sarà mai più che altro! Non ricordo mai che ho bisogno di tre camera, porca! Non mi distruggere, santo Dio! Sto laggando da fare schifo! Non ho capito il perché! Allora, intanto io mi fuzzo una cosa qui! Ah, è moro! Eh, mamma mia! Ma mi hanno sparato! Non poteva vedermi! Com'è possibile? C'era la finestra chiusa! Ah, ho ucciso uno, bene! Tra l'altro mi hai dato l'assist! Perché gli ho sparato in quel momento! C'è una cosa io! Scusi qualcuno qua! Ah, hai distrutto anche me però! No, non vedo niente! Va bene! Ma allora, quindi cosa facciamo? Eh, non so! Andiamo da sopra! Voglio andare sopra, ma da qui non passa! Il giocatore è stato bandito! Ha rubato! Ha rubato! Ha rubato! Aspetta! Voglio fare un mucchitto per vedere dove... Zitti, zitti! Ho sentito un rumore incredibile! No! No! Ora se ce n'è uno qui sopra io mi cago! Niente! Ah merda! Non distruttibile qui! Vedo bene pochissimo qua qua! Ma do come ti ho salvato il buccio di culo! Cazzo! L'avevo visto! Mi sono passato davanti! E ho detto buongiorno! E poi mi sono nascosto e gli avevo fatto un zimulino e sono morto! Ma no! Non è vero! Non era lì! Dov'era? E adesso è del biorischio eh! Questi buchi qui? Va bene! È rimasto uno a uccidere! Canna! Canna! Marco non c'è bisogno! Eh la metto! Sono stato individuato io! Puttana! Scusa Marco! Volevo entrare prima! Aspetta! 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 Marco! Trappola questa! Ah no! Gaggetti di squadra! Ho sbagliato! Ho ucciso! Bravissimo! Ho fatto tutto io! Con le bombe! Sono fortissimo io! Ma c'è l'affanculo! Non ci sono nessuno! Questo me lo chula! Questo me lo chula! Cosa fa lei? Cosa fa? Guarda che faceva le bombe lui lì! Sì! Ed erano lì di fianco ero eh! Ancora tu dice che gli ho toccato 100% di vita! La bella? Siamo in... Toc! Ma sì! Che ancora lo rifaccio! Sono un ragazzo inadeguato! Erano tutti dati! No! Ho visto un cane! L'hanno visto! Ma se Karim non mette giubbotti ovvio che perdete il difeso! Che traia! Trovate la posizione del contenitore... Ma mi hai distrutto la clayboard cretino! Eh sì! L'hai cinciato la cretina! E' perchè non sapete che questo era! Era lì! Era la clayboard! Ma non puoi! Ho capito! Mi spaventavo! Davanti a me era! Trovati! Dov'è? Ah sotto! Ah ok! Non sono sotto sotto quindi! No! Come no! Ah! Dove sono finito io! Ahia! Mi hanno rotto! Dove sono finito? Ah ma non ho trovato quello che dovevo trovare! Gatto guidami che sono qui! Ah io mi hanno rotto! Eeeh! Sono sopra comunque! Come sopra? Quello mio era sopra! Sono nel penultimo piano! Mi sono ficato di un gruppo e sbaglio e sono finito dal piano inferiore! Eh non ce la faccio io! Niente! Lo puoi riprendere comunque dopo! Quindi! Esprit se premi 5 lo puoi riprendere! Eh non adesso però quando muoio! No! Adesso! Adesso? Premi 5! Ah! Quando muori non ti puoi più muovere! No! Chi è che l'ha tirato questo? Io! Ah ok! Allora fai vedere se riesco ad andare... No! Eh anche perchè non possiamo mica andare da C! Questo è un cazzo! Sono quiiiiio! Oh! Rulo occhio! Uno qua! Ok! Eh ve l'ho spottato sulle scale! Va va fa culo! Sono qui Mark! Stai attento! Sono a destra qua! E' sulle scale eh! Dove vuoi entrare? Robottino! Vai! Grazie! Ok! Ho ucciso il lost! Ok! Castle non l'hai visto! Occhio Moro che è spottato uno da lì forse! Moro Moro occhio! Stavo cercando di uscire uno! Non vedo nessuno! Come è possibile? Ho chiuso qui! No, vedi che li hanno partito Ah no? Qui hanno fatto un muro Ma no, è ancora... Ma no, ho visto il muro, ho fatto il muro Era la canna del fucile Chi è che sta attirando le cose? Cazzo Ah, è sopra, Marco Eh sì Vabbè, ma che sfiga, guarda Gli ho aperto la finestra che stava guardando Ah, mi hanno ucciso Dove sono, Marco? Eh, dove? Come sei morto male È sopra, eh Uno l'ho ucciso Sì, è sulla bottola sopra, dove sono le scale Eh, c'erano Frost e Kapkan e Frost l'ho ucciso Esprit, vai, vai No, dalle scale, sotto a destra Eh, perché c'era anche sopra Eh, sopra non lo so, quelli che mi hanno ucciso da me sono sotto Quella è la mia Claymore a sinistra, non ti spaventare Mi hai individuato, comunque Allora, dentro questa... Dentro qua c'è Kapkan, eh Dentro qua E c'è una trappola Occhio quando entri perché c'è una trappola di qua Spavento Grazie sinomi Yes, yes 90 Grazie mille Vedi il mio cadavere, Esprit Eccolo Eh, porca puttana Non l'hai visto un uomo per la squadra Eh, ma mi sono utilizzato due secondi, porca troia Dove è arrivato? Merda Dove è arrivato? Eh, che troia Qua ce la vii proprio di fronte, Esprit Eh, mi sembra che l'Arna mi copia leggermente l'ingue Io vi saluto Io vi saluto Ciao gatto Buona ripresa weekendale Ma abbiamo perso contro tre? Ottimo Sì Siamo ragazzi l'adeguante icone di camera Eh, magari Yook sopra? No Adesso sì Sì che c'è Yook Allora, torniamo al menu principabile Andiamo in principale? Eh sì Ho sbagliato, aspetta Andiamo Porto giuuu... Ah Eh, Moro ti rinvito Ecco Sì Più che entra su Rainbow Symbol Eh, Serentino, non posso entrare in digerenza in Rainbow Six Cosa? Mi dico che sono lento, eccetera Ma non posso entrare in digerenza Ma forse al mirare Quello lì potevi vederlo No, sì Ma perché ci giochi di meno? Quello lì potevi vederlo tranquillamente Perché una volta che... Eh, ma no Io non volevo tenere tempo di sparare niente No Eh, ma per dirti lì Lì, Esprit Io la mira l'avrei tenuta su A prescindere Quando ti sei girato Ma non ero neanche questa di mira Perché non ho neanche sparato io Non sono proprio riuscito a sparare Perché il tempo che lui ha girato l'angolo Mi ha shoot out No, ma anche io No, ma era di fronte a te in realtà, Esprit Eh, ma appunto Ma non ho avuto neanche il tempo di mirare Mark Perché... Non ero proprio su di lui Era leggermente più a destra Se no ti riguardi quella vibe Non ero su di lui preciso E porca vacca Se si porto un attimo Cioè è semplicemente più poco di me E' fine E' che... Ripete le cose Un bioccone incredibile Sarà il tempo Dopo il pranzo incredibile che ho fatto Io sono sempre svegli I tortellini in brodo No No, dai Izar Basti, sei fuori dei termosifoni Ah, bene Moro Sembra che Mark D nevicherà a Milano Quindi... Ma tu sei fuori dei termosifoni Tanto ormai di Izar Viene Luco Cosa... Comunque nevicherà lo stesso Ma non importa Perché fuori dei termosifoni cosa ha fatto? Ha preso Bastio Ha detto i tortellini col brodo Bleh Ma a me non piacciono le cose in brodo In generale Ma tu devi andare via dei termosifoni Gli Izar adesso Però i tortellini con la panna quanto sono buoni Ma cosa c'entra? Con la panna o che? Ma cosa c'entra? Quanto sono buoni con la panna Però i tortellini sono buoni, punto Sono buoni anche con la cacca Magari quello no Quelli della mia nonna Anche con la cacca Quelli con la tua nonna Quelli con la tua nonna Con la tua nonna Sei deficiente? Con la cacca di mia nonna O con la cacca di mia nonna O con la cacca di mia nonna Che schifo che mi fai Mark Andare su Instagram A vedere se ci sono due o tre fiche Aglioca è andato? Una fica Ok Una fica Ok Una fica Io mi sto facendo la lasagna per domani però Una, una sola Una sola Vedere le domine che mi seguono Che sono tutte belle Ah la mappa del college E' la fine Siamo tutti morti Difendi, difendi Devo difendere? Ah qua no Infatti non capivo lo sfondo Sono un ragazzo inadeguato Tra la l'ero Tra la la Tutto cos'era? Una trappa meccanica A due amici Ah una trappa I tortellini con la panna Me li faccio stasera Mi sono venuta a molle Stasera Quasi Stasera sono da solo a cena Sono tre Ma dai mi dici Vengo io in otto dai Dai vediamo l'arco Ma dai Tutti giochiamo a Guitar Hero fino alle sette di mattina Ma si Dai Va bene Oh eh Qualcuno doveva finire in Guitar Hero 3 no? Giustamente Non l'ho ancora finito Mi manca ancora una canzone Non era obbligatorio comunque Perché qualcuno dovrebbe finire in Guitar Hero 3 Eh ce l'ho e quindi Qualcuno lo deve per finire Mi manca ancora una canzone che è Raining Blood Che è una cosa Pa 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 Ma quando andiamo avanti Ma penso Ancora mezz'oretta Facciamo Ancora la facciamo Che palle Stasera Andiamo a correggere il diminutivo Dove 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 No non me ne frega Ma aspetta cos'è che è l'obiettivo Non capisco Vabbè Moro ti chiudo allora dai Aspetta qua fanculo C'è un robottino Due robottini Marco prepara Eh ma c'è una robottina sulle scale Ma che cazzo vuol dire Ma il mio rischio è proprio qua sulle scale Ma scusami Attento Moro C'è una bomba sulle scale Vabbè metto Un altro Metto posizioni a caso Prosto Sì ma sopra è da murare ai putti Non c'è come fai È anche sotto da te È impossibile Da difendere questa zona È tutto È tutto Va Sì 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 che sono bravo a guitar hero io Eh Fanculo Non c'è brava comunque Ho sentito un robottino eh Ho sentito un robottino eh Ho sentito un robottino eh No Eh per me non siete buoni Ti immagini esperita giocare a guitar hero Ma questo giubbotto ne ho preso Anch'io Merda A me guardare la gente che gioca a guitar hero Io non ce la faccio a guardare Non so Forse solo quel gioco Mi capito solo con quello Però non ce la faccio a guardare la gente che gioca a guitar hero Io mi metto un'ansia Marco io pure Perché mai Perché Perché Anche se la fai perfetta rovini la canzone comunque Perché Non è perfetta Lo stesso Ma non è vero E quindi Non lo so mi mette Un'ansia Hanno rosso eh E' la stessa sensazione di quando cringi Eh dopo ho messo Eh aspetta Guarda addirittura Qui Ti giuro Mi metto un'ansia incredibile Non ce la faccio a guardare la gente Ah c'è uno qui che è caduto Te l'ho detto No ho rosso Non solamente questo coso Marco lì Mi ha fatto un grosso coso No lo metto Dirk solo con la chitarra mi sembra difficile E' uno qua sotto Marco uno sotto di te Dai Ho rotto i gadget di squadra Anche d'Orcusa Dai Marco La prossima cosa che faccio E' l'anima dell'immortaggio Ah mi ha ucciso Ma ci vedeva il gomito Da me Dai Che cosa è proprio fastidio Io vedevo il gomito Ma come ti ho ucciso Mi ha ucciso Dalla finestra dove sono morto Ma vedevo solo il gomito Ma è una porta o una finestra E' una finestra E' una porta E' una finestra E' una finestra Moro Prossima cosa che faccio Prossima live Gioco a Dark Soul Con la chitarra bendato Ho ucciso uno Comunque sotto Che free fire Ho salvato il buff tantissimo Perché è stato riuscito Qua Venite a casa mia Ho portato la lasagna Che tortellini mi metti i tortellini Sta un ternato Portal Questa è una E' qui da me Che da me ce n'è uno Non vuole dire a nessuno No ho voluto 하 nessuno Hanno rotto le robe Qualcuno cascherà nella mia trappola No, è qui che ha sfondato, c'era uno L'ho provato Ti lascio a non, Liezer Merda Sei morto Stanno entrando dalla finestra Dalla porta Ah, metà vita Dove è morto Liezer Moro, è presente la testa di Liezer? Eh Eh, lì, dritto alla sua testa Non questa finestra, l'altra, Moro Quella lì, sì Sì, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì, è la porta Non lo vedo, non lo vedo, è buio Non arriva però Eh, merda, l'ho visto dopo, vaffanculo Ma no, come sei morto come uno schizzeppo Ah, c'era uno qua, aspetta E' con lo scudo Mewke dietro la di te, ha le tue spalle Il muro ha le tue spalle Madonna, santissima Era mancato io qua Porca troia Metta vita, c'era, vaffanculo Dove lo stare dove ero prima, dove lo stare, porca vacca Ma scusami Ma quanto è avuto lui? L'altro gioco Yook mamma che paura Allora Yook ne hai uno solo perché l'altro sta morendo con la roba Io ti consiglio di girargli e fargli lo scudo Eh quello che ha scultato sta morendo Quello che ha scultato sta morendo quindi lascialo pure lì Coltello coltello Eh niente Ah peccato Non è Eh ho sbagliato di porca parca Quello lì con la gitarra vera Come si chiama? Ah ehm Iron No Rocksmith Rocksmith Quello lì non solo in culo Non è bello Eh si chiama lo scudo con la flashback Sì Secondo me è meno arcade Eh eh si devi effettivamente suonare Perché devi effettivamente suonare È più bello in teoria Sì Cioè Ci sono proprio lezioni di chitarra in quel gioco Sì sì no ma ti insegna a suonare la chitarra Cosa cosa là eh Cioè devi suonare effettivamente la chitarra E puoi effettivamente usare anche la tua chitarra Sì Sì hai bisogno del jack USB per attaccare al pc però sì Eh invece c'è l'acustica Infatti con la classica No scusa Non l'acustica È abbagliato Ehm La fanculo di notte Non mi ricordo più Eh anche con l'acustica Quella Quella Quell'acustica che ho io per esempio La puoi tranquillamente C'è l'acustica con Eh sì L'acustica amplificata sì Ma anche la classica c'è amplificata C'è con la Sì C'è la classica C'è anche la classica Solo che chiaramente costano un pello di più come chitarra Non ci posso andare Infatti la mia l'ho pagata Non ve lo dico che mi vergogno quanto l'ho pagata Porra cavalli Quanto di più Non è che costa così tanto l'acustica amplificata Beh oddio No la mia sì Mi ha costato davvero tanto Ma c'è uno strozzo E anche perché mi fa nezzo comunque Ma mettetela nel culo Comprate quella Ma mettetela sul culo 80 euro C'è il jack che funziona Sì sì Voglio quelle belle Di chi parla Ma che è quella da mozzare Quelle belle È una classica È un'acustica Non è la classica È un'acustica Crettino Tutto con gli altri È uguale Acustica e classica Sono uguali esteticamente Non è vero Ciao Daisy Buon giro per i regali di Natale Cosa è che io questa no Non devo fare Manco io No Devi essere single Devi essere single Eh sì Però noi lo pucciamo il biscotto Eh no Noi no Ti fai una salsa di latte E lo pucci E poi lo bevi Chilare il pene nel latte Che schifo E poi lo bevi Magari è anche caldo Lo succhi come una cannuccia Da lì Ma dai Entriamo da qui va No si può Eh ho due dietro di No non si può Ah merda non posso Da qui No lì si può È blindato È blindato Eh io posso Che bello però L'ambientazione è bella Che difficile Ammatti almeno uno Almeno uno Sì Due Due Buona buona Ma erano tutti vicini Scusami Io ce ne metto un'altra Volendo Ma voi che sapete no Rocksmith Si può No chiedo in chat Perché voi non lo sapete C'è per pc Rocksmith No si C'è anche per basso Perché se c'è per il basso Così quasi Forse Dica ci può qua Come Ho visto male prima Io ad ora Ma qui Aspetta Qua Ti sparo Aspetta Fammi fare una cosa Ma non mi dito da su Ma poi che palle Troppo vicino Entro da comignolo Entro Amici sono entrato io Ah dicono che c'è E allora Quasi quasi Guarderò Guarderò Non so come muoverò Guarderò quanto costa Il jack Quasi quasi Cucù Visto che il basso ce l'ho Moro posso arrivare da lì? Tranquitto No c'è la gente Cioè qui si Amoro dietro Marco Scusa Esprit Perché è lì sotto È lì sotto È lì sotto Ci sto provando adesso io Prodonami ma era proprio di sotto di te Tra l'ietà liquida c'ha Puttana E allora Così quasi Dov'è? Mi danno la possibilità di usare il basso Visto che ce l'ho Oh Eh se non mi costa un occhio della testa Il 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 jack Dov'è capire da dove mi individuo Ma non lo sapremo mai Faccio giro Eh no Non devo costare niente il jack Non devo costare più il gioco È probabile Stai attento Stai attento C'è una finestra che posso usare? Eh Forse qui a destra Dietra No Non posso entrare da qua Amici voglio entrare da qua io Continuano a individuarmi comunque Ah siete qua Ok perfetto Entriamo Ui Ups che figura Palo Beh hai rotto la Rompita cosa Qualcuno mi spiega 30 euro il cavo ufficiale Porca puttana Ma siamo tutti qua 30 euro il cavo ufficiale Eh dicono 30 euro il cavo ufficiale Granata l'azzata Sì no Allora se c'è un cavo non ufficiale Che mi costa 2 euro Prendo quello Di viotto che? Di chi? Dove? Dopo ci facciamo le live Eh non si può parlare live in cui suono il basso Dov'è la telecamera? Perché così? Yuk Sono un robottino Che scherzo c'è? Buona Dov'è il tuo nemico? Entrate? No lo sento qui lo sento Eh lo sento a sinistra io Guardando anche a destra per Entra guardando a sinistra Attività nemica È lì dietro Dietro la posizione Eh spetta aspetta Eh io lo uccidevo Buona buona Eh mamma mia Che ansia Sono entrato Bravissimo Credo Non ho niente questa partita È vero Yuk No di meno di 700 ragazzi Meno di 700 ma è comunque tanto 540 Quasi Dai facciamo ok il prezzo è giusto No l'ho pagata 4,70 Allora Se volete prendere voi Io prendo Il sapphire Però l'ho pagata Cioè mi sta durando Da tanti tanti anni È da dire che Ti dura davvero Ce l'ho da 8 anni Tipo 7 anni No no Fai 7 anni Un castle Finestre magari Eh le finestre sì Almeno sappiamo Che da lì Devono usare qualcosa Per entrare E le sentiamo Ma che Precora qua Ma che Ma che Ma che È sempre Eh lo metto qua a questo punto Metto una qua Amoro Non difendiamo niente Proprio Non chiudiamo No no Non non chiudiamo niente Prendete i giubbotti Eh meno uno qua lo metto Ma le mura Eh arrivo Eh sopra Occhio dietro il divano Liu Amoro Ok io non l'ho distrutto Sono i robottini qui Ehm Iniziamo qua a barricare le mura Amoro Non me ne frega niente Di barricare le mura Eh Ah sei fuori Ah che sto fuori C'era anche una Una trascola qua Eh ce l'hanno fatto Due mura qua qua Il nemico non ha trovato Il contenitore Il nemico Ho pagliato Ti chiusi lì Il nemico Ehm Occhio che se poi ci servi Eh beh sfondo al massimo Tu come siete messi Eh non so perché è questo Moro io non ti posso curare lì però Eh lo so Sono lontanissimo Ah non ho fatto Parano Visto il contenitore L'hanno trovato Non muore Non sta morendo Ah c'è il nemico Lo scudo C'è uno è morto Eh ce l'ho scudo E' lì Marco Ho provato Ci ho provato C'è non ce l'ho E' fuori eh Avrei ucciso Capo usbinter Faccia link Per chitarra elettrica Mecchio pc Tra i metri A 8 euro e 0 qua Beh Sì Non si funziona Però sì Luke Sono sotto Moro Sono sotto eh Sotto di me 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 Obiettivo conteso Eh c'è il deficiente Con lo scudo qua Vai via Sotto di me Cazzo di me Cazzo di me Sotto di me Ah ma quindi Non sono l'unico Ad aver visto Robottini saltare Da banca E spirit E lui non l'avevo Io mi sono accorto Avevo distratto Sto scudo Ok 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 Di strido eh Dieta Rocchio fuori Dalla finestra Che te lasce Prima eh Fuori in bari finestra No è morta Ma dai Porca troia Dov'è Ah È sopra eh Ma fa il culo Jezzer T'ha proprio dato il culo Lui Eh perché Non te ne ho accorto Uno è sopra Credo È lì sopra Porca troia È lì Jezzer È lì È lì È lì È lì L'hai visto Drago Buona buona Oh che ansia Parca vacca Io te l'ho ammazzata Pallo lo scudo Abbiamo vinto Finalmente Ottimo di Ah no Ancora no Non so perché Mi ha detto Per cazzo di scudo di merda Parca vacca Che non ho ganato Non avevo Eh Prendo glass Lo stesso Che è utile Capiamo Determine serve E che tanto Mi sa No Adesso vi racconto Un attimo Cos'è successo Durante una partita Mia di corn Eravamo nella mappa Quella dove Di difendere il bunker Sotto E niente Eravamo rimasti Io Un altro tizio E contro Avevamo solo Montagna Montagna cosa fa Prende Si chiude In un angolo Con lo scudo Ed era impossibile Qualcuno Ci sono stati mezz'ora Sparargli all'angolo Poi siamo riusciti A trovare un angolino Adesso ha sparato Al dito Che usciva No Lei l'abbiamo ammazzata Con il coltello Ma Nemmeno Perché rimaneva Tutto composto Perché era veramente Perfettamente coperto E' stato ridicolo Da morire Ho trovato il biorisco Ah ma dove si Marco Dove Sopra Dove eravamo noi Uguale Stesso posto Ah perfetto Sì Composto ne merda Anche più che attacca Secondo me Perché aveva troppe entrate Mi metto qui Tutto coverdure Nessuno unico Mi è arrivato da motore davanti Va bene il gioco Io sono nello scaffale Fermo lì Fermo lì Fermo lì Fermo lì Ma non mi mettete giù lì Mi mettete giù lì Stai fermo 5 secondi Anzi Affianza Liedzo Anzi Gira Ti coglione Che è una cantina Eh no Che mi giro Non vedo la lucina Almeno Dove siamo Milano Ah una trombetta Io quasi entro dalla piena trombetta E' un subscriber Aurora Ciao Ah grazie mille Grazie mille Grazie Si è licenziato il motore Perché 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 Poca reattività Dove andare a mettere le funze Poca reattività Sono mezzo addormentato Dove cazzo si può entrare qua Di? Di si può entrare Fatti un sonno allora Qui moro Qui non si può entrare Eh lì sopra è un ascenso Qua Qua No la stanza La stanza è grande Li metto qui Prova Io entro all'alto allora Carica Ah qua si può Ma poi Il gioco quanto mi costa Rainbow Grazie Dexter Grazie mille Grazie mille Grazie mille The great Dexter Ah sentite di Si è fatta il laser Merda E' morto il laser Dov'era? Eh di all'angolino Mi son girato l'ho visto Però non l'ho sparato E quindi che si fa? Io non entro da qua Allora Ma non è morto Io non ci credo E non ha vita Hai caduto per terra Però il dock Ma merda Qui è apertissimo E il dock Quindi si tirerà su E ho La puttana Non esco Se adesso in giù Non esco Niente Affanculo Fammi andare piano terra Fammi andare Moro Occhio E allora E lì Quella porta lì Era giusto a signora Ma Luke Occhio eh Vai a prendere il Luke vai Ma dov'è? Per se si spariva attraverso la parete E non so E qui a signora Proprio qui alla porta Ah puttana Era Ho 12 di vita Proprio qua era Eh si sarà spostato Ho 12 di vita Merda era di là No mi sa che l'hai colpito Si è spostato No non l'ho colpito Io dove sto andando Proprio 12 di vita Non hai ricaricato Ho 12 di vita Cosa cazzo faccio io adesso? Eh sprint O ne menarmi Non ti devi mai far colpire Ah ma puttana la cabella Ma l'ho Ma l'ho Ma l'ho Ma l'ho scusa Non colpa poi Come l'ho cazzo fatto? Eh perché era già rottino Ma sui sito di K Posta Ma l'ho rotto L'ho proprio sfasciato Ma manchi massacrato Sui sito di K Si no Il fatto è Quello che mi interessa E se posso fare col basso Tutte le canzoni Perché se ho solo 10 canzoni col basso E tutto il resto con la chitarra Che cazzo se ne fotte? Ma non lo so Perché mi pare che sia Sempre aggiornato Rosalto Rosalto Eh sì Ma so Sfino Ah ma avete finito Non è vero No Devo Devo controllare un po' Allora? Siamo ancora in live Ma è vero ci sono due persone sotto Saluta Roby Ciao amici ma come saluta? Può far registrando Dai allora giochiamo a Overbox No Ma no Scusate Roby Dopo dai Ho provato Eh ma dopo Adesso facciamo un'altra Magari poi Non lo so esattamente E allora Allora stronza Allora stronza tu Dove chiudo? Ah è la mia spavola Ma non può questo salto Non ti ha insegnato nulla Che far Non mi ha ritrido Eh? Eh? Robottino Robottino Scusate Ho mandato la nota audio Ma mi ero dimenticata Di rispettare Ah quindi non era per me? No Questo vuol dire Ah mi ha divieto Non lo so C'ho rimasto malissimo Io infatti Che cazzo è sto coso? Sì Allora Ma se si comporta così Mary cream Vai entrate qua Marco tu sei fuori? Tu sei fuori Io vado via Basta Ma qualcuno Ma io sono il dottore Fammi entrare Ma porca puttana Però Marco Mi stanno fiammendo per il culo Con quel robottino Eh? Chi è che non ha preso il gilet? Volevi chiudere qua Io Non so dove chiudere Porca puttana Allora io ti do acqua Sono qua Sono qua Secondo voi amici Se io mai dovessi giocare A Rainbow Six Nella vita Che personaggio dovrei fare? Ma tutti van bene Sono tutti Vedo male Non c'è grande differenza Come sono tutti uguali No nel senso Comunque il gioco è quello Cioè spari Sì Sono diverse le abilità Ma il gioco comunque spari Ma sono là Era uno che è passato qui Prima Adesso non è più passato Ma da dove mi hanno individuato? Capito ma c'è lo stealth C'è il non stealth No No Sono tutti stealth Ma è quello Io ho visto il gatto che era a testa in giù A un certo punto Io non capisco Non muore Non muore Non muore questo qui amici Ho bisogno di aiuto Esprit Tu che c'hai lo scu... No non hai lo scu... No come Perché? E' qua la finestra amici Ma non c'è nessuno fuori però Sono tutti lì da voi Sì E uno ha ucciso il resto sul tetto E' ucciso in modo bastardissimo uno Non si è visto di notte Aspetta Aspetta Ma cura L'ho acceso Non so Devo curare chi? E' Luke Eh aspetta E' morto Addio Luke Grandissimo Tuffandosi tra l'altro Stato rompendo qui sotto Che cazzo è Marco le coglioni? E' qua Qua Che d'un 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 Eh esperti scondo la parete dietro quasi eh Mi è arrivato il sangue di Marco in faccia E' arrivato Eh non ho più cuore Ah! Sono io Dov'è quello con lo sfumo? E' qui da me E' qui da me Qua sotto Non può stare in modo però Abbiamo problemi qua C'è uno che sta tenendo chi ci va dentro Quanto bidimensionale è quel sfumo? Ah di Di dove? Di sopra Di dove? Eh lo sta mirando Marco Non lo vedo più quello con lo scudo Ah c'è lo scudo Eh c'è lo scudo non gli ho fatto niente L'ha rotto? No! No non l'ho solo E' di lì! Non l'ho riuscito a fare esplodere Non aveva lo scudo Uh la trappola Ah ah che sfigato Ah 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 Com'è inizio? Oh Ancuno l'abbiamo E l'abbiamo a feci ma Abbiamo vinto veramente questa volta Eh si perchè è giù RIGRI! Ah no! Ah no! Ah no! Oh capitan Fatta male Ah Abbiamo vittoria su afferma Mancano le palle di cacca su Smythe Cosa? Ah le palle di cacca di Hercules Ah per di Hercules Porcavacavola di cacca Ah valvissio morti Da 70 euro Adesso ma gli dai cazzo Dai facciamo l'ultima va Sì In momento è un sintesimo però Facciamo gli ultima Però le perdiamo tutte in questa E tanto non è che sarebbe dirlo Facciamo colpa Grazie Bruno Vantatre Grazie mille Bruno Vantatre Bruno Vantatre Bruno Vantatre Bruno Vantatre Donna Nome più complicati no eh ragazzi Ma è Bruno Novantatre Eh no è Bruno Vantatre Eh beh Perchè per renderlo più fluido Magari si chiama Vantatre di cognome Che ne sai Bruno Vantatre Grazie signor Vantatre Ah che dolore Ma quindi i genitori in caso l'hanno chiamato Bruno così tipo Così è Bruno Vantatre Puntatre Cosa Coglioni Ehm 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 Scegli il personaggio che poi scegli Naked ass Naked ass Asshole Tu No Tu Asshole no Tu Asshole di chitarra Asshole di Ah 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 Sei molto bravo moro Grazie Io sono Esprit Io sono Esprit No Io sono Esprit No Io sono Esprit Per fortuna Che vero Io sono I not Per fortuna Tu sei I not me però non ha senso inoltre Eh già Tu Vivi nella Io sono io non sono me Tu Vivi dentro il mio cuore Io Lascia che io Dov'è che parlo con le pareti Io Lascia che sono io Io Lascia che io Ok Tu Tapponi a fastidio Aia mi è caduto il quadro nella tempia che dolore di spigolino sono morto Ma ti so Ma ti già Eh devi evitare Aspetta Fai fai una cosa Con le pareti Ah ma è lo stato Cioè Ok io uno l'ho rotto Gli sparo all'ostaggio Ci vuole uccidere Eh? Eh perché sei qui Sei in cima Ostaggio Oggi tu ci crepi qui Cretino Stavo bravo Non ho paura di te Ostaggio La metto in qua Vedi questi cazzo che Tiè Uno è bloccato Cosa? Mangialo adesso Quindi si mangia Rainbow Six Ah i giubbotti Tiè Guarda la bandiera della Germania Tiè Non c'è più la Germania Ostaggio Ma sei calmo Mi ero preso bene a fare il criminale Qual è questo rozzo? E' quello E' quello Dove? Ah bene Mi è già come sei svenuto E sulla bottiglia di vino Tra l'altro Si Ho ucciso quello fuori Ma credo ce ne sono altri Stavo passando E' quello di spawn E' quello di spawn Lo ucciso Stavo passando in santa pace Moro com'è messo da? Eh l'ho ucciso In teoria Quindi lo chiudo Ah che dolore Sono sulle scale Che spavento il mio cuore Ma ci sono i giubbotti Ma li prendo Ah che male il cuore Voglio Facciamo così facciamo Sono sulle scale amici Attenti Io miro così miro Fa un culo Ma io è un po' per Non posso rimanamente morto No moro io Pascio dove voglio Chiudi Chiudi Ehi poppy Si La porta è bloccata Se entro non posso sbagli nel culo io Eh no E' che da quando ho iniziato a svappare o Non sta tranquillo mai 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 Guardi le stelle moro E' diventato peggio di Esprit moro Davvero E' sempre a contestare tutto Sempre che ho Ho sparato la mano Ah fammi vedere che io Ho una visura elettronica Ah è qui dietro Sono due qui Tre Eh ma ce n'è uno fuori Lì Sono qui dietro Staggato Sono scarpati Non li vedo più Ah te lo faccio puntarlo io Quanto fa a parente E' sempre fuori E' sempre fuori Ho fatto rider Che ha detto parente? No ha fatto una foto Che ballo Ha posti E per me Cosa fa? Cosa fa? Vandalo, vandalo! È qua, è a sinistra, amoro Era lì! Era lì! L'hai visto? Aveva uno di vita, quindi non posso fare... Passa camminando tutto disinvolto Non ci sono! Tutto disinvolto fin... È lì! Nooo! Era la sorella! Correte, correte! Era la sorella, c'era... Mamma mia! Era che passava tutto disinvolto, guarda Sì, sì! Ah, l'ha tirato su, affanculo! È la tiroide! Cosa? Ah, qua c'è lo storage Vado di spreco lo zzz Non frega niente, io gli metto le bombe Nel culo Ma porca Oh fuck Touch mail Non si può dire Ah, lei ormai Proprio nell'urban meme dizionario Cosa? Come si chiama il dizionario dei meme? Urban? Legends Urban... Bravo Marco! Urban Dictionary tipo Dove devo andare in questa mappa? Non la conosco Non mi ricordo Ma in notte sei addormentato intanto? No, no ci sono Sono un po' addormentato ma ci sono Un leone con i coglioni In testa li ho trovati Sai cosa Aliezzar? E' che qua ci sono già abbastanza cretini con Mora Quindi devo stare un po' più tranquillo io E' per quello che parlo sempre meno Come si sale di sopra? Cucu sono qui, bitches! Dov'è lo che ti va di là? Lo vedo, lo vedo, lo vedo Adesso faccio sparare allo spazio E' dolore Ancora 5 secondi Ciao, quelli mi hanno rotto Ah, non sono arrivato in tempo Era una volante della polizia Era quella Roby, veramente Tu Marco si che che sai cantare Vado ad afferrare I canti di vino a te, guarda Ma questo glielo ha bruciato Che è stato, coglione Io ho rotto la telecamera, esperit, impara a giocare Per una volta le stesse domande E' lì com'è successo? E' lì per buttar fuori la telecamera ha rotto Valkybria Ma io non ci casco Un vaso preziosissimo, lo devo rompere Ah, che soddisfazione, l'ho rotto E' capitato Ma, con quante robe in bocca Puttana Ha detto K de cazzo Vabbè mi è scappata una smoke, vabbè tanto sul pezzo Ah no, c'è una C4, qual'è che? Dentro Giazzor? Tutto bene? Cosa fai? Come ti stai muovendo? Non è possibile questo movimento Giazzor Occhio Luke se attendo è pronto Te lo buco Ma che morte Luke Ma è la stessa? Mi sparo nel culo Non so dove sia che mi sparo a caso Ho ucciso quello che ti sparava E' ho quant'altro di vita fero io, vaffanculo Ma poteva Ho ucciso un altro perchè io sono quello più forte E' la mano, c'è city Cosa? Complex city Complex city Io entro da sopra invece Toc toc Chi è? Io No, non è vero eh, non lo so E' una C4 E' un cuglio di una C4 Io ho fatto l'ostaggio E' qua la p***a Esprit, reazione però Ma non ho reagito in tempo Ma dai Sono io che ho quello addormentato Ma io o tu? Me ne vado, ho vinto amici Ho vinto Mamma mia come li ho ucciso con l'altro Madonna Ho capito ma dove ti sei tranquilli voi Ciao Sara Buonanotte Con i capelli nuovi Svegliati e primavera Noi ho messo i live, sono stati tranquilli E' vero Marco che era pelata Era pelata e aveva disegnato sulla testa un fallo Oh oh, e poi cos'è successo? E poi i capelli Ah Sono usciti così in un tratto E poi i capelli Capelli E poi E che cacca mo Che dolore Molto 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 La mia famiglia vola E poi E poi sarà come i capelli Perché Giorgia però ai notti? Lo so Mi è venuto in me No tranquillo Sono troppo addormentato per iniziare a fare il coglione Come Marco Come difendiamo qua? Io ho metto la parete Ho messo Ho vinto Adesso sparo all'ostaggio Prendete i giubbotti antiprosetti Ah Andonio L'ho visto Andonio Ah sei scomparso Fatemi entrare nella bresaola T'ho sentito un giubbotto L'ho rotto Prendetelo giubbotto Dove prendere la panza L'ha trovato Esprit non l'ha ancora preso il giubbotto Non l'ha preso ancora il giubbotto Fatemi chiudere Aspetta Esprit Ormai vado in giro L'altra Entra l'altra E io dove entro? Entra l'altra Ma non devo entrare Devo mettere lo scudo per sicurezza Posso mettere qua anche la barricata Marco Amici Amici Ma che hanno 20 punti a prestigio La metto qua io Travis Il primo Il primo Il primo Travis Una lunga sera Oh merda Ok sono qui Tu sono io Dicono la botta e l'antenna di sopra Ma c'è uno Esprit sono qua Ah C'è una botta piena in sopra Merda Eh ma come va facendo di sopra Guarda Esprit sono qui Metteranno la bomba eh Va bene Io mi barico qua La sta mettendo dietro L'ho ucciso uno Ho rotto il muro e l'ho ucciso Beh Dove non può metterla perchè è un muro rompibile Eh si che la può mettere Se c'è una termite Ma è Esprit Ma è Esprit Abbiamo detto di no ma è chiuso dentro Si Eh lo trovo da voi No qua non stanno Non l'hanno messa No ma credo Sono contento E' barricato Occhio che lì ne ho ucciso uno Esprit Ecco me lo metterlo Ecco lì da sopra Sara È morto Luke Eh mi spiace Luke Può capitare Merda Che saluta Ma che pene Ma che pene Sopra Luke È un altro spazio da Lo stazio Dov'era? Eh no Niente Eh di Tutto nelle tue spalle Pesa E uno l'ho ferito L'altro l'ho morto E uno l'ho ferito Che non c'ho Dei uno a sinistra Eh puttana Eh vabbè Ma non potevo 2.4 Questa Questa non è potuta andare Prove mare Eh no Eh si Ho riscato di correre l'ostaggio Dovevi mettere dietro l'ostaggio Eh Esprit posso dirti una cosa? Sei scemo Stupido Tu ogni volta che hai la barriera Esci sempre da sopra Eh beh si No 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 è meglio uscire da sopra Eh no Perché così lo beccati No 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 è meglio uscire da sopra perché ti puoi abbassare Invece se vai da di fianco Non si sa perché ti colpiscono sicuro Il fatto è che Lui spara Si abbassa E si rialza Spara Si 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 La terza gli sparano in testa Eh ma per forza così perché Eh no Cioè il fatto è che Da di fianco ti uccidono subito e basta Non si sa perché Ma funziona così Cioè A logica Sarebbe più comodo Non uscire sempre dalla stessa parte Eh ma con Si quello è vero tecnicamente Eh c'è un problema C'è un problema Sono caduto sotto la mappa Con il robot E anche a me è capitato E niente Ti inchiurghi Che z Lo renditi L'ho trovato L'ho trovato E qua Gli schiazzi Ho trovato Ho trovato Il vestito colorato Ma perché Ma cosa c'è stai C'è di che Non c'è di che Non c'è di che Il barrotto Che c'è Che c'è cecchina Non sei buona E' che quando fai cecchino E sei contro un cecchino Diventa Troppo Grrr Quando non riesci E poi Non fare l'errore che ti Focusi su di lei E fai perdere la squadra Oh no Perché succede sempre così Quei cecchini che lottano La devo vincere io Devo essere il miglior cecchino Per questo non lo sarei mai Palle Esprit Che sei in culo Alla Allo stagio Che troveri Harry la tua famiglia è morta Ah chi si è dato Mi spavento Niente Esprit Non capisce che devo rompere Le telecamere Eh ma se non lo dici mi spavento comunque Ma non devo dirlo E' una cosa automatica Non lo dico Non lo dico Invece Eeeh Spara no Ce n'è un lì Occhio Ma da dove? Mi hanno spaccato Ma da dove? E' all'esterno Ma qua L'ho ucciso Adesso vuoi vedere l'attenuto? Ahia Manu La migliorcissima Merda Ah ma la c***a da sotto lì Non ce l'ho pensato Ma guarda come mi sta incontrando Ho riso Eh si è un pezzo di merda giù Amici è ancora lì quella eh Ma mi sta rompendo le balle questa qui E' occhio qui Quanto ti ha fatto il curo? Aspetta Come facevo a sapere che usciva dall'esterno Porca madre Occhio eh ce n'è uno sulle scale Ah due sulle scale Troppi sulle scale Beh che Cambio caricatore Non ho spostato io E poi E io sono lì E io sono lì Io sono lì Era passato uno Era passato Eh ma Perché sono troppi E mo' che poteva sparti Se non ti ha visto Poi poteva sparti Intivamente Di all'estrazione Che che ha preso l'ostaggio? Ti lo fottilo vai via Vai via Fuggi fuggi Chi è Marco? Che ritardata No non sono io Che ha preso l'ostaggio Ah ma sono fortissima Mamma mia che storia No io invece di dire grazie Ho fatto le motte E sono rimasta ferma Nooo Sono rimasta ferma E' 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 rimasta ferma Siamo troppo forti Ha detto No Eheheh Sì vai Eheheh E lo sono ancora in attacco Sì Sempre con l'ostaggio Quel cecchino Marco Va bene Marco L'ho fatto L'ho fatto La volete abbracciata Perché io li amo Però perchè dal Mac Per il Murloc Ciao Musa Sono qui Ciao Gatto Mac Ah grazie Roby Ciao Ciao Questa vittura a partire Ah Prego Allora Telecamera su Sinistra poi Mi vuole questo game No ma figurati Cicchiamo di chiedere con una vittoria Mi sento Mi sento Qua Trovati No bravo Dov'è? Tira Bombi sotto la scrivania Ma è rotto questo E' schifo federaico Mi spiace Tutti Tutti Vinchiano Mi trovo Eh Me ne vado Allora ci sono le cose elettrificate Sì Sì Ok La mamma prima mi ha chiamato Mi ha detto Il tram ha fatto un incidente Quindi adesso per andare ti inculi Così a caso Non mi hai spiegato l'allora dietro Prima Da dov'è? Devo andare Ma siamo noi No 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 Aspetta no Il colpo è arrivato dalla finestra No Abbiamo sparato noi Non ci sono finestre rotte Ma da dove? Da lì? Vedi? Vedi? Ma scusami un attimo Ma da lì come avete Com'è fatto ad arrivare il colpo qua? Eh non lo so E' arrivato il colpo a me A puttana Da dai Aspetta hai saltato in aria Eh Mi rifesti di merda Guarda te Hai fatto la ruota Porca miseria Però Non ho fatto la No perché ho mancato di violenza che cazzo Porca parca ho mancato di violenza E' un altro Slut Porca puttana L'ho ucciso headshot subito Ovunque robottino Robi ci sono un po' sign Guidazione Non rispondere alle mail già in via Chiusi a fare anson Ah Non lo sapevo Ah anch'io sono a terra Luca aspetta vengo io Davvero non lo sapevi Robi M3rda non sono venuto No ho proprio sbagliato io Porca tra vedi Ehm Andiamo a giocare Pimbo6 Si è il 2 contro 4 Ma il tiri è morto almeno Vai Mark, sei la sola, tu non hai le tue mani Ma io ce l'ho fatto di caricare le cose Mazzovi Romino Romina Power E' quello che lì davanti Eeeh, non so se l'ho ucciso, mi sa di no Gli orari ce li diranno domedì a sto punto MARCO Dov'erano? Porca vascia Erano sotto la porta, mi sa No, saranno a destra, forse Non è possibile, ma no, l'unica volta che non ho guardato Si è abbassato, c'era il cassonetto E non l'hai visto Niente, ho detto che vincevamo questa E' niente Ci vediamo domani Grazie per essere passati carissimi Ciao Ciao Fai schifo Continua a parlare Continua, non sta zitto sto qua Entra e parla Ti senti solo Sopra Va tranquillo Grazie a tutti di averci seguito in questa live incredibile Impressionante Non di tutti i giorni Ci vediamo domani sera Buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti